buongiorno ragazzi anche quest'oggi 3 novembre nuova avventura nuova giornata senza vette oggi però vi faccio vedere qualcosa di bellissimo guardate questa è una vecchia macina di un mulino che si trova sull'orta lo stabile è ben tenuto ben ristrutturato vedete è molto molto bello non so se è riuscito a vederlo qua invece troviamo la ruota che si trova sottostante al mulino dove c'è l'orta che le dà il movimento circolare per la macina questa è una vecchia macina vedete che è molto antica e tutto ciò è possibile vederlo partendo dal da rocca caramanico per il sentiero q7 oggi sarà una giornata leggera diciamo circa 10 chilometri a cercare la salamantra pezzata che anche del tritone anzi chiamata tritone italiano degli appennini vediamo un po se oggi pensiamo saremo fortunati vi auguro una buona giornata una buona domenica ciao ciao ragazzi ciao